E tuffiamoci in questa avventura, io con un po' di scetticismo a dir la verità. Anch'io un po', però qui con il scetticismo è il trasciume che vedremo. Vi diremo alla fine com'è. Allora, volevo addirittura elaborare una recensione seria, questo Shark 2, l'abisso. Ma peggio di così non si poteva fare, veramente. Io credo che questo sia il vero fenomeno comico dell'anno. Veramente un film orribile. Davvero, insostenibile, sinceramente. Io non so cosa stia capitando ai dirigenti della Warner Bros., ma la mente è peggio di così, abbiamo toccato veramente l'abisso. Signori, questa sera è tutto. Rivederci da noi, siamo mille e pimpi. Grazie. Grazie. Grazie.